è passato un ottimo secondo tempo al Milan per battere una Lazio che ha giocato secondo me molto bene nel primo tempo quantomeno ha tenuto bene il campo nel secondo tempo invece è uscito il Milan con due sgroppate di leao che hanno favorito il gol prima di Pulisic al suo terzo gol stagionale e poi di Okafor al secondo gol consecutivo quindi molto bene anche l'ingresso di Okafor andiamo un po' velocemente ai promossi bocciati secondo me l'unico bocciato veramente è Giroud che ha oggettivamente fatto una parità vergognosa perché ha sbagliato tutte le sponde possibili nel giorno del suo compleanno poteva suggellare la prestazione con un gol invece oltre al gol è mancata proprio anche la prestazione in generale poi sostituito nel secondo tempo da Okafor che è entrato e segnato ancora una volta quindi qualche riflessione sul futuro prossimo si potrebbe anche fare magari su una titolarità da parte dello svizzero al posto del francese del resto leao ha un pochino a luci però alla fine se andiamo a vedere due sgroppate ha fatto e due gol ha fatto il Milan quindi insomma leao non può che non finire tra i promossi e infatti ci finisce assieme secondo me a Pulisic e Rienders è una situazione un po' borderline perché sbaglia un gol incredibile nel primo tempo però fa un secondo tempo stratosferico domina il centrocampo quindi secondo me di essere promosso se lo merita molto bene e poi forse un pochino impreciso Tomori l'altro bocciato potrebbe essere lui però per il resto davvero un ottimo Milan ancora un po' timidino su Quesi quando è entrato quindi anche lui può starci nei bocciati però per il resto comunque mi ha giocato molto bene in tutti gli effettivi altra buona partita di Adelì era la mia perplessità che potesse farcela con la Lazio comunque è un giocatore abbastanza tecnico ma non pensavo essere quella cattivera per giocare davanti alla difesa specialmente con un avversario così forte invece è molto bene anche Adelì e nulla Milan che va a più tardi all'Inter momentanamente aspettando che la partita della Salernitana e comunque li guarda tutti dall'alto verso il basso perché il Milan è primo in classifica almeno una partita in più ciao a tutti